Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. In apertura subito i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire all'interno di questa puntata. Emergenza idrica, la comunicazione dell'assessore Monni e il dibattito in aula. Prospettive future dell'ex GKN, presentata una mozione urgente al fine di individuare un percorso certo di rilancio industriale. Semplificazione, via libera alla legge sulla modulistica unificata e snellimento dei procedimenti. Guasto alla PET dell'ospedale San Donato di Arezzo, presentata un'interrogazione. È stato l'assessore all'ambiente Monni e Monni ad illustrare all'aula la comunicazione relativa all'emergenza idrica della Toscana. Le maggiori problematicità riguardano le acque superficiali, con i volumi di risorsa immagazzinata nei principali invasi della Toscana, ancora lontani dall'obiettivo del ripristino del 90%, stando ai dati di metà ottobre. Lo stato di emergenza regionale per la crisi idrica era stato dichiarato lo scorso luglio. Al termine della comunicazione si è sviluppato il dibattito in aula. La siccità ha caratterizzato quest'anno in tutta Italia. La Toscana forse un po' meno degli altri, perché noi abbiamo bilancino quest'opera pubblica realizzata grazie alla regione, che ha una funzione importantissima nella Valle dell'Arno per il contenimento dell'acqua d'estate e rilascio graduale, per il trattenimento dell'acqua ai fini di prevenzione dalle alluvioni nel periodo invernale, con bilancino 70 milioni di metri cubi, bonte d'oglio in Valtiberina 135 milioni di metri cubi e la prospettiva di realizzare altri laghi, laghetti, invasi. Faremo una legge specifica proprio per favorire la costruzione di quello che devono essere i serbatoi che contendendo l'acqua ci consentono di affrontare i periodi di siccità. Del resto i cambiamenti climatici sono un'evidenza così forte nel nostro tempo e oggi ho relazionato proprio sul fatto che abbiamo ottenuto 4 milioni e 2 dal governo nella dichiarazione in stato di siccità all'inizio di agosto. Questo è stato un risultato positivo, ricordo sui giornali veniva, ma come mai nella pianura padana cinque regioni hanno ottenuto risorse se nel centro Italia non è avvenuto così. Ecco, nelle settimane successive in realtà quelle che sono state le esigenze che abbiamo documentato e che portarono anche in Toscana lo stato di calamità da un punto di vista regionale e poi la richiesta dello stato d'emergenza a livello nazionale hanno trovato soddisfazione. Ma contemporaneamente appunto le modifiche di legge, la previsione puntuale di interventi che portino laghi, laghetti invasi a calmierare una situazione che altrimenti con quello che sono le modifiche del clima può creare problemi tutti gli anni. Abbiamo potuto verificare come al netto delle enunciazioni sono già state immesse in campo una serie di interventi. Il finanziamento che il governo Draghi ha dato alla Toscana per la gestione dell'emergenza è già in fase di attuazione per sbloccare tutta una serie di opere, però noi pensiamo che al netto dell'emergenza di queste settimane noi col tema della siccità purtroppo ci dovremo fare i conti per molto tempo. Ed è per questo che come PD abbiamo chiesto un'attenzione particolare alla questione risorsa acqua in rapporto all'agricoltura. L'agricoltura ha chiaramente come fondamento la risorsa idrica ma allo stesso tempo mettere in campo una serie di misure per efficientare l'utilizzo della risorsa, gli invasi e tutta una serie di altre misure per evitare che ci sia lo spreco di questa risorsa sempre più preziosa diventa fondamentale. Ecco perché abbiamo chiesto anche all'assessore Saccardi di orientare le risorse del piano di sviluppo rurale che sono in previsione per i prossimi anni molto per sostenere la realizzazione di opere che permettano alla nostra agricoltura di avere acqua e di non sprecarla in nessun modo. La crisi idrica al pari della crisi energetica è una tra le grandi emergenze che siamo chiamati a gestire in questa fase legislativa del governo della regione toscana. Bene le risorse arrivate dal governo precedente, da Draghi, per cercare di risolvere in termini infrastrutturali un gap che esiste. Serve fare degli invasi, serve ovviamente fare degli interventi, serve fare i opere pubbliche e credo che sia positivo il fatto che in alcuni casi si sia già avviata la fase di progettazione rispetto alla realizzazione di alcuni invasi che nei territori possono dare delle risposte, ma nel contempo serve anche finanziare interventi di natura privata a favore per esempio delle aziende agricole per cercare di dare risposte autonome e nel contempo aumentare gli interventi da parte dei consorsi e della regione stessa per cercare di rendere la nostra regione, di fare degli invasi e delle infrastrutture in grado di rispondere in termini infrastrutturali a quella che purtroppo è un evidente cambio climatico con il quale dovremo convivere nei prossimi anni. La crisi idrica, si parla di 4 milioni e 300 mila euro che sono arrivati in Toscana per fronteggiare questa criticità. Ciò che manca però a nostro avviso è la parola investimenti. Noi non possiamo continuare ad intervenire esclusivamente sotto un profilo emergenziale. investimenti strutturali, programmazione, sono queste le sfide che attendono la Toscana delle quali si sente poco parlare. Continuiamo a parlare di opere importanti che però sono opere che ormai risalgono nei decenni. Si parla sempre di bilancino. Ecco, il modello bilancino dovrebbe essere un modello che oggi persegue tutta una serie di obiettivi di investimento per la Toscana che però non vediamo. Vediamo invece che si continua a parlare di situazioni contingenti, investimenti in autobotti. Nel 2022 francamente questo è inaccettabile. Per non parlare poi delle perdite del servizio idrico. In realtà noi abbiamo scelto decenni fa di gestire, di far gestire la risorsa idrica a delle società partecipate. Oggi il tema ritorna all'odio del giorno con le multiutility. Questo modello di gestione ha le sue criticità perché di fatto gli investimenti non sono stati fatti nel modo adeguato. Investire oggi risorse del PNR facendoli passare come una grande conquista sugli investimenti. Io credo che denoti invece che nel passato ciò che doveva essere fatto su questo fronte non è stato fatto. I livelli di accumulo che l'autorità idrica toscana ci dice sono stati raggiunti ad oggi e si raggiungeranno nella prossima primavera sono molto bassi e quindi rischiamo anche per il 2023 una situazione difficile. La regione toscana chiese l'emergenza nazionale che è stata dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo di settembre. Sono arrivati 4,3 milioni di euro che in realtà però andranno per opere più o meno ordinarie dalle autobotti al miglioramento e al recupero di alcuni pozzi di attingimento senza attaccare invece alcune questioni fondamentali nell'approvvigionamento idrico e anche a scopo agricolo e industriale dell'acqua. Ovvero sia da una parte lottare agli sprechi, alla perdita che in Toscana monta a 178 milioni di metri cubi all'anno circa. Il recupero ad oggi è arrivato a 38 milioni di queste perdite. Dall'altra parte irrobustire pesantemente il sistema di invasi medi, piccoli ma soprattutto grandi che affianchino Montedoglio e Bilancino e in particolar modo da questo punto di vista abbiamo rilanciato l'idea della grande diga sul Merse e potrebbe dare decine di milioni di metri cubi di acqua soprattutto alla Toscana del Sud. Idea su cui il Presidente Gianni ha dato disponibilità fermo restando la necessità di un confronto con gli enti locali del territorio. Abbiamo dibattuto a lungo, io a marzo scorso avevo già presentato un primo atto non considerato dalla maggioranza dove già all'epoca tenevo a due temi, al fatto che dovevamo dichiarare lo stato di emergenza perché già a marzo le associazioni di categoria, gli agricoltori ci dicevano che il rischio di siccità era alto, il secondo punto era quello che già all'epoca chiedevo l'intervento, un'analisi su progetti di bacini di accumulo. Siamo a novembre, finalmente la giunta regionale, la maggioranza guida PD ha capito che è un tema che va attenzionato e finalmente oggi ci presenta, dopo aver chiesto a luglio, quindi diversi mesi dopo, lo stato di emergenza, ci presenta quelle che sono state le attività svolte in emergenza nel periodo estivo e ci dice che terrà e attenzionerà il tema dell'emergenza idrica con la realizzazione, purtroppo non sappiamo ancora quando, i tempi saranno lunghi, di bacini di accumulo. Un altro tema che noi abbiamo attenzionato all'epoca e che ancora oggi abbiamo sottolineato, su cui l'assessore Monni si è presa l'impegno è quello di analizzare le tantissime cave di smesse che sono presenti in Toscana e renderle anche quelle bacini di accumulo, perché crediamo che con questi due tipi di intervento non si possa risolvere al 100% il tema dell'emergenza idrica, ma si possa dare un grande aiuto a tutta la Toscana. In alcune aree della Toscana la metà dell'acqua che circola nella rete viene persa all'interno degli acquedotti e che il tubo che collega praticamente l'isola d'Elba e la costa in questo momento è vecchio di 30 anni e potrebbe rompersi da un momento all'altro lasciando l'isola d'Elba senza acqua e in questo momento si sta progettando invece un dissalatore per produrre dell'acqua all'isola d'Elba con grandissimo costo dal punto di vista dell'energia e metterle in una rete che perde il 43%, insomma nessuna capacità di programmazione, nessuna capacità di manutenzione ordinaria al punto che abbiamo perdite gravissime, l'ottimismo che ha manifestato il Presidente Gianni nel commentare e la comunicazione dell'assessore Amoni è assolutamente inspiegabile perché ci stiamo per trovare davanti, come ci ha spiegato il Lamma, più volte che è un organismo che lavora per la regione toscana, l'acqua in realtà, la piovosità non è diminuita, si concentra in alcuni periodi con lunghi altri periodi di siccità, quindi il grosso problema della regione toscana è quello di riuscire a controllare l'acqua piovana e soprattutto anche non permettere degli emungimenti massivi specialmente da parte di certe industrie laddove invece poi l'agricoltura o addirittura le civili abitazioni si trovano a non avere acqua da utilizzare, ecco questa l'ulteriore mancanza da parte della regione oltre all'incapacità di saper gestire la risorsa che hanno. Attivarsi presso il governo al fine di individuare un percorso certo di rilancio industriale dell'impianto ex GKN di Campi Bisenzio è quanto chiede tramite una mozione urgente il consigliere del PD Fausto Merlotti. A seguito della mobilitazione al presidio di ieri mattina davanti ai cancelli a cui ho partecipato insieme ad altri, a tanti cittadini, ai lavoratori stessi, ai sindacati, ho presentato oggi in aula e iscritto all'ordine del giorno una mozione diciamo in merito alle prospettive dello stabilimento QF ex GKN di Campi Bisenzio perché di fatto penso che le istituzioni debbano continuare a essere presenti e vicine ai lavoratori, ai sindacati, al territorio per dare quella solidarietà e quel sostegno che vada anche oltre appunto la semplice solidarietà per cui l'impegno nei confronti della Giunta è ad attivarsi con il Ministero dello Sviluppo Economico e del Made in Italy come oggi si chiama, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali affinché seguano e si attivino per dare sostegno alle lavoratrici e lavoratori per sostenere questa vertenza e consentire quindi alle istituzioni, ai sindacati e all'azienda stessa di sedersi nuovamente intorno a un tavolo per trovare una soluzione che tuteli i livelli occupazionali di quel sito industriale. Via libera la legge regionale per la modulistica unificata e lo snellimento dei procedimenti, la legge riduce gli oneri a carico degli utenti. Il Consiglio regionale ha approvato un atto estremamente importante che va nella direzione della semplificazione della vita dei cittadini e delle imprese. Grazie a questa legge sarà possibile sia per i cittadini che per le imprese presentare istanze, osservazioni, comunicazioni o segnalazioni alle pubbliche amministrazioni del territorio regionale attraverso una modulistica sempre uguale e uniforme in tutto il territorio della regione toscana. Non soltanto quindi ci sarà una modulistica uniforme elaborata a livello regionale nei rapporti tra cittadini e imprese e la regione, ma ci sarà tra tutti i cittadini e le imprese i comuni del territorio toscano e tutti gli enti pubblici del territorio toscano. Si tratta di un atto importante, un atto che si pone nell'ottica della riduzione degli oneri a carico dei cittadini, ma anche nella direzione della digitalizzazione, della semplificazione dei processi di formazione della volontà della pubblica amministrazione e che si allinea anche a una tendenza che è ormai quella della digitalizzazione così come postulata a livello comunitario. Un guasto che ha messo fuori uso la PET dell'ospedale San Donato dallo scorso 25 ottobre. Le difficoltà sono legate alla componente da sostituire del macchinario non disponibile sul mercato. Il consigliere della Lega Marco Casucci ha presentato un'interrogazione. Ho presentato un'interrogazione sulla questione della PET che risulta non funzionale dal 25 di ottobre. Sicuramente manca un pezzo che è difficilmente trovabile sul mercato, ma non possiamo neppure accettare rimanendo in silenzio che si formino delle code, che ci siano dei pazienti che attendano. Questo è accettabile e noi lo diciamo chiaramente perché dobbiamo far sì che il nostro San Donato possa essere sempre veramente un grande ospedale, un ospedale capace di dare risposte al territorio e noi terremo sempre alta la guardia chiedendo che si intervenga per sanare il prima possibile questa anomalia. È tutto, questa era la nostra ultima intervista. Grazie per la cortesia e attenzione. Cronache e commenti torna la prossima settimana.